Una buona giornata da Nicola Giannattasio, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa settimanale, con le prime pagine dei quotidiani dell'area metropolitana fiorentina. Cominciamo con la Repubblica di Firenze, che apre con il caso, minacce all'Inps, scatta l'allarme. La direttrice toscana, quando riapriremo le agenzie, voglio mettere la vigilanza privata per tutelare i nostri 1.500 dipendenti e assicura che restano solo 1.300 domande da smaltire per la cassa integrazione in deroga. Il taglio centrale è dedicato alla riapertura degli uffizi, la ripartenza agli uffizi come non li abbiamo mai visti. Meno persone e visita a Slow oggi si riapre. Davanti alle opere si dovrà stare dentro ad un cerchio per il distanziamento. Sulla spalla il progetto per la Gonzaga, viale e piazza nella ex caserma. L'articolo a firma di Ernesto Ferrara, di cui vi leggiamo le prime righe. Un lungo corridoio alberato, accessibile solo a bici e pedoni, attraversato nel mezzo da una avveniristica navetta elettrica su gomma per facilitare gli spostamenti, lungo cui si affacceranno gli edifici di un nuovo, moderno quartiere. Tra 300 e 350 appartamenti di edilizia residenziale a prezzi agevolati. In fondo, una grande piazza pedonale dominata dal vecchio centro comando dell'esercito. È il futuro della ex caserma Gonzaga dei Lupi di Toscana al confine con Scandicci. E ancora sulla spalla la paralisi della giustizia SOS degli avvocati. Aprite il tribunale. Articolo a firma di Luca Serranò. Cancellerie sguarnite rispetto alle richieste. Processi slittati anche di un anno. Altri messi in calendario ma comunicati ai difensori fuori dei termini. Se nel paese la fase 2 sembra essere finita prima ancora di cominciare, la giustizia pare seguire altri tempi. E i disagi, denunciano gli avvocati fiorentini, continuano a moltiplicarsi. Ordine, Camera Penale e sindacati chiedono di riaprire. Le condizioni ci sono, serve una svolta, spiega Luca Bisori, presidente della Camera Penale. Infine a fondo pagina, in ricordo, l'artista nata 100 anni fa, Fedora Barbieri, la sua voce fece innamorare Toscanini. Articolo a firma di Gregorio Moppi, domani Fedora Barbieri compierebbe 100 anni. Non ci fosse stata la pandemia, in questi giorni sarebbe stata ricordata a dovere con un concerto al Conservatorio, dove qualche mese fa hanno trasferito il suo pianoforte con l'emissione di un francobollo speciale, con un convegno e l'intitolazione di una strada. Tutti appuntamenti rimandati all'autunno per il grande mezzo soprano triestino, una vita trascorsa a Firenze. E poi il caso, stadio a Campi, solo il Sassuolo gioca più lontano. La firma di Andrea Vivaldi, questione di distanze economiche per l'area Merca, fir progettuali per il restyling del Franchi. Per lo stadio a Campi Bisenzi uno dei dubbi sollevate riguarda soprattutto la lontananza. La Fiorentina è a Firenze, ripete, chi si oppone a questa soluzione, sebbene rientri nell'area metropolitana. E oggi ci sarà una conferenza stampa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, proprio sulla questione stadio. Conferenza stampa a cui parteciperemo e quindi vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sui nostri canali social. Ci spostiamo adesso sul Corriere Fiorentino con l'apertura dedicata alla Festa della Repubblica. La prima festa del dopo quarantena il 2 giugno dei fiorentini nei musei. Il prefetto Laura Lega alla Caritas bisogna evitare fratture sociali. Una festa doppia, quella della Repubblica celebrata per la prima volta dal prefetto in videoconferenza con le istituzioni e le categorie. Da questa crisi nascano nuove opportunità, ha detto il prefetto, che poi ha messo di nuovo in guardia dal rischio di fratture sociali. Ma è stata anche la Festa dei Fiorentini a cui è stata dedicata la riapertura di alcuni dei più importanti musei della città. È tornata a essere visibile la Casa del Davide e anche la Loggia dei Lanzi. Hanno riaperto le Cappelle Medice e Palazzo d'Avanzati. E per un giorno il Museo Bardini, Palazzo Vecchio e il Museo Novecento hanno riaccolto la città. L'articolo è a firma di Paolo Armaroli. A centropagina, Borgunto, tutto come prima. Neppure la pandemia ferma il fenomeno del vinaino di Via De Neri, ma saltano distanziamento e buonsenso. Code fitte, nonostante le misure per il Covid-19, una pattuglia arriva, guarda e va. E a centropagina spicca la foto con l'immagine di una Via De Neri piena di gente. La spalla laterale è dedicata, come di consuetudine, all'editoriale, a firma di Paolo Ermini. Toscana aperta, responsabilità e rispetto, vi leggiamo le prime righe. Dire che Firenze vive solamente o quasi di turismo è una falsità, clamorosamente smentita dai dati sulla ripartizione del PIL. Semmai sarà l'unica vera fonte del centro storico svuotato di residenti e attività di ogni genere, tranne quelle legate appunto al turismo. Dalle oreficerie del Ponte Vecchio, ai negozi di Pellame e Simil Fiorentini, ai venditori di pacottiglie varie sui marciapiedi. Non lo diciamo per minimizzare gli effetti drammatici del coronavirus sull'economia, ma per contrastare la campagna scandalosa di chi vorrebbe basare tutta la scommessa del post-virus sul ritorno alla situazione di prima, prima possibile. I nostalgici per proprio interesse non possono condizionare tutte le scelte dell'amministrazione, che troppe volte sembra spinta dalla preoccupazione di perdere consenso, nonostante la conclamata volontà di cambiare rotta nello sviluppo di Firenze. E poi ci sono due interventi, intervista con Remuzzi, Istituto Negri, anche noi scienziati dobbiamo saper dire questa cosa, non la so. Poi le scelte del governo, se la libertà di culto è ridotto al minimo, e qui è un articolo a firma di Antonio Baldassarre. Per quanto riguarda il taglio alto, tre lanci, stop alberghi, il piano di Palazzo Vecchio, se un hotel sposta la licenza al suo posto, case o uffici. Boom online, effetto e-commerce, consegnato il doppio dei pacchi. E poi opera prima, Veronica Galletta da Levorno al podio del Campiello. Infine, a fondo pagina, la regione, mobita fitti i bus ai francesi, lettera dell'assessorato per cercare di bypassare la guerra legale sul trasporto pubblico. Infine, le opere rubate da Goering possono tornare a Firenze, la confisca decisa dal GIP. Qui a firma innocenti, quelle opere d'arte furono trafugate a Firenze durante la guerra da Goering e in persona, poi finirono ben nascoste nel Museo Nazionale di Belgrado. Ma ora potrebbero tornare a Firenze dopo che il GIP di Bologna ne ha decretato la confisca. Dal Corriere Fiorentino alla Nazione di Firenze, apertura dedicata all'iniziativa del sindaco, i nomi dei mecenati in piazza Signoria, la promessa di Nardella, una firma eterna scritta sulle pietre e un fiorino d'oro per chi aiuterà la città. La fotonotizia centrale, tutti dal David, dall'Accademia a Palazzo Vecchio. Fiorentini in fila per i monumenti, la città riscopre il suo centro, iniezione di fiducia per bar e negozi. Sulla spalla, l'intervista a Franco Cardini. La città si salva solo con la politica. La firma di Paola Fichera, che Firenze stava correndo il rischio di morire di turismo, lo avevamo già capito tutti. L'esplodere della pandemia da coronavirus ha solo imposto tempi molto più rapidi per decidere cosa fare per strappare la città a quel mordi e fuggi che l'ha resa troppo simile ad un indistinto turistificio. Il sindaco Dario Nardella ha lanciato la sfida per restituire Firenze ai Fiorentini, dando il via alla lotta alla rendita e investendo su nuove funzioni in centro, dalle imprese all'università alla residenza. E' al professor Franco Cardini, storico e saggista, che abbiamo chiesto se è possibile invertire la tendenza e provare a ritrovare Firenze. Sulla spalla, la cronaca, l'omicidio di Sant'Agata, uccise il figlio a coltellate, Patriarchi torna davanti ai giudici. E poi l'allarme, furti in serie, la fase 2 è cominciata anche per i ladri. Nel taglio alto, la festa della Repubblica, Firenze celebra un 2 giugno particolare. Usciamo dalla crisi. Emergenza, locali da ballo, discoteche KO, il 50% rischia di non riaprire. Infine il taglio basso, riaperte le regioni, ma ora è vietato abbassare la guardia. Parametri toscani al top, comportamenti cauti o si rischia di annullare il vantaggio. Lontano l'obiettivo del contagio 0, ancora 110 ricoverati. Il governatore Rossi stiamo preparando una campagna di rilancio. Dalla nazione di Firenze a quella di Empoli, un parco fluviale in Rivallarno. L'idea del vice sindaco Fabio Barsottini potrebbe prendere avvio dalla ciclopista e dal vecchio campo di gara. La foto notizia centrale è la vita nella fase 2, la battaglia dei giochini. E si vede la foto di un parco con un genitore vicino ad uno dei giochi classici che si trovano appunto nelle aree verdi. La spalla a Montespertoli, l'enoturismo è una risorsa su cui si deve tornare ad investire. E poi da Cerreto Guidi il sindaco Rossetti invita Mattarella all'inaugurazione della primaria. Nel taglio alto la protesta, genitori infuriati avete dimenticato i nostri bimbi piccoli. Nel taglio basso altre notizie che arrivano dall'Empolese Valdelsa. Montelupo Fiorentino, viabilità dolce, ecco il piano per i pedoni. Cartellonistica e manutenzioni sulle strade, anche lavori sul ponte sono una priorità certaldo. Mercato, la graduatoria adesso è pronta. Oltre 100 operatori potranno sistemare i banchi nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Chiudiamo con il Tirreno e l'edizione di Pistoia, Montecatini, Empoli e Prato. Per quanto riguarda l'area metropolitana fiorentina c'è un lancio nel taglio alto. Empoli, varchi di sanificazione, consiglieri polemizzano. E con questo è tutto per la rassegna stampa odierna. Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a visitare i nostri canali social.